Ciao amici, sono Papè. Oggi ripassiamo chi, che, ghi, ghe. Ricordatevi che la lettera H trasforma i suoni dolci, c, c, g, ghe, in suoni duri, chi, che, ghi, ghe. Ad esempio, baci diventa baci, pance diventa panche. Ecco altre parole, maghi, streghe, ghiro, spaghetti. Ricorda, H trasforma i suoni dolci in suoni duri. Mi raccomando, fate gli esercizi. Buon lavoro. Ciao ciao.